Mobilità sostenibile, sfide e opportunità nel settore dell'auto. Questo è il tema affrontato ieri in un convegno organizzato da Confartigianato La Spezia. L'evento si è svolto nella settimana per l'energia e la sostenibilità. Questo è all'interno di un evento molto più grande che dura tutta la settimana di Confartigianato Nazionale, che è la settimana della sostenibilità che facciamo tutti gli anni, che coinvolge tutte le Confartigianato. Ci sono 60 eventi nei vari territori, tutti mirati alla sostenibilità. Noi l'abbiamo fatto sull'auto, sull'andare verso delle autovetture che siano sempre più ecologiche e quindi creino meno intasamento. L'incontro è stato anche occasione di confronto a tutto campo, tra Confartigianato, imprese, cittadini, istituzioni, esperti italiani e di livello internazionale. Ma a che punto siamo sulla mobilità sostenibile? Dal punto di vista normativo sono stati fatti diversi passi in avanti. Anche dalla tecnologia ha sviluppato veicoli che oggi garantiscono anche autonomie elevate, quindi compatibili a quelli che sono i profili di missione. Ci sono degli obiettivi anche proprio normativi, contingenti rispetto alla fine del motore endotermico, quindi alla fine dell'utilizzo del motore diesel. Certo che se in ambito urbano questa risposta l'industria riesce a darla, per profili di missione più impegnativi siamo ancora indietro. Il quadro è complesso anche per chi opera nel settore. Diciamo che nell'ultimo periodo si è un po' rivista la questione delle auto elettriche. Ecco, se prima si pensava, per esempio c'era questo obiettivo di arrivare al 2035 senza motori termici, oggi questo obiettivo credo che vada rivisto perché il motore elettrico comunque inquina, perché ricaricare le batterie è comunque un elemento inquinante. Una testimonianza è arrivata anche da chi lavora con le auto elettriche. È già qualche anno che lo Spezzino ha cambiato idea e sta approcciandosi a un mercato di vetture ibride, sicuramente un pochino meno elettriche per la conformazione del nostro territorio, però sicuramente stanno abbandonando l'idea di acquistare vetture diesel. Diciamo che un grande percentuale sta acquistando macchine tendenzialmente ibride, o full hybrid o mild hybrid. E poi qualche elettrico, qualcuno sì, non tantissimi, proprio perché siamo ancora un pochino indietro, però chi ha la casa di proprietà, chi ha la possibilità di ricaricare la macchina elettrica, va verso questa strada che sembra quella del futuro.